Consigliere Facciolla, autonomia differenziata nel mirino delle critiche, delle opposizioni in particolare? Dovrebbe essere nel mirino delle critiche di tutti i cittadini italiani. È di fatto un atto di secessione. Di fatto con l'approvazione di questa legge si consente di avere maggiori risorse a chi è già competitivo, a danno delle altre regioni, specie quelle del Sud, che hanno difficoltà di competitività e di erogazione di servizi di qualità. Significa che noi non avremo più la possibilità di avere un fondo perequativo che ci consente di essere ancora pedibili, ci consente ancora di conservare servizi adeguati e quindi significa che proseguirà in maniera ancora più forte e più evidente lo spopolamento delle nostre aree a vantaggio di aree che sono più pedibili, con servizi migliori e più performanti. L'autonomia differenziata è un vero atto di divisione dell'Italia. Quali sono i settori che saranno maggiormente colpiti secondo voi? I settori che saranno drammaticamente colpiti sono quelli della salute e della sanità in primis, poi certamente quello delle infrastrutture e da ultimo quello dei servizi educativi. Questi tre servizi che sono quelli pubblici di maggiore diffusione, evidenze di importanza, sono quelli che subiranno e soffriranno da subito le difficoltà di non avere abbastanza risorse da mettere in campo per l'erogazione degli stessi con un minimo di qualità. Appare assolutamente dicotomico e incomprensibile che il Molise aumenta la tasse ai propri cittadini perché già non ha servizi adeguati ma perché ha un debito sanitario. L'importante è che nel prossimo futuro non si vedrà neppure raggiunto dai trasferimenti che obbligatoriamente, in ragione di una perequazione, negli anni passati c'erano stati. L'autonomia differenziata è davvero un'incredibile iattura per il Sud.